bella tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video siamo su PES 2020 per telefono scusatemi se per la mia lunga mancanza su youtube però questo periodo ho avuto da fare dovevo studiare quindi non ho avuto il tempo di registrare e caricare i video però oggi per lo speciale dei 30 iscritti vi porto uno spacchettamento su PES dove abbiamo questi qui che non posso aprirli perché non ho soldi però questo è l'agenda assicurata poi Cubo del Mallorca, Febas, Mohamed abbiamo questi pacchetti qua più uno Black Ball un agente Black Ball che non è per niente male poi abbiamo questi qua però che non apriamo perché appunto non ho crediti e nulla io signori innanzitutto direi di cominciare però prima vi invito a lasciare un mi piace un bel commento che non mi fa mai male di iscrivervi al canale e farmi pubblicità e niente cominciamo con questi qui del Mallorca perché tanto comunque non sono tutto so che anche come ultimo magari mi lascerò quello leggenda assicurata che magari quello è quello più forse più più decente Cubo del Mallorca che fa schifo però Febas che non so perché comunque ho sbagliato tasto mamma mia intanto se anche voi avete PES per la play o comunque avete PES anche per il telefono ditemi magari cosa avete trovato se avete trovato qualcuno di forte intanto si guarda classica Spagna sempre Mallorca poi Mallorca ci giocava ci gioca pure coso come si chiama vabbè adesso non mi sfugge il nome ci mancano questi tre agenti ma i club molto bello comunque l'animazione animazione veramente molto molto bella a me piace molto se comunque non posso strippare ma ieri sono andato a vedere la partita dell'aurora dell'aurora basket e vabbè lasciamo stare vabbè i pericori perché ecco vabbè tanto gli avversari erano pochi quindi comunque rimaniamo qui con noi allora vabbè classico schifo lago ora ultimo schifoso e poi abbiamo un black ball e una leggenda assicurata signori eh salva seviglia in che nome allora io signori questa qui dovrebbe essere leggenda assicurata possiamo trovarci o Khan o Nedved o Ronaldinho o Viera o Beckham e quindi io o cominciare col black ball o leggenda assicurata però mi sa che è meglio black ball vai allora allora dai pallone nero pallone nero si va in Italia dai dimmi che buono dimmi che buono dimmi che buono no culibali culibali si è culibali culibali calidu calidu culibali minchia culibali è la Juve raga questo qui titolare fisso ora leggenda assicurata mamma mia portami bene devo dire bellissima anche la l'animazione della leggenda bellissima l'animazione stadio dai 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 chi è? Ronaldinho 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 raga Ronaldinho no non c'è credo raga Ronaldinho oh madonna non c'è credo ancora non c'è credo perché ecco trovavo Ronaldinho vabbè ora diamo un secondo qui l'ho scaricato da poco quindi ragazzi allora ho sbagliato mettiamo Ronaldinho lo mettiamo qua qua poi culibali qui e poi e niente tanto la scuola la scuola signore ecco le che e ogni tanto farò qualche qualche sfida per per prendere qualche credito per per far per riuscire a a a a comprarmi dei buoni pacchetti intanto convertiamo qualche preparatore così da poter finalmente fare qualcosa giocatori preparatore alleniamo mi prendo Ronaldinho e lo alleniamo ho sbagliato scusate c'è mio fratello che urla allenamento usiamo il preparatore avanti Ronaldinho ancora vabbè a livello 1 91 però signori Ronaldinho è Ronaldinho eh cioè mica pizze fighi intanto signori ci ritiriamo i premi questi qua 500 gp poi 100 monete 10 poi altri 10 di giocatori ingaggiati ancora madonna quanti è poi altri 10 del box draw 10 forza squadra altri 10 ancora 10 vabbè il più me ne danno meglio è io sono felice ancora questi e dovranno mancano questi due ok 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 ennesimo obiettivo allora 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 info sul collocamento non mi frega niente e dai basta no allora obiettivi riscontri riscontriamo questo ora se troviamo un buono un agente che non mi costa molto ecco la telecronaca le scarichiamo più tardi posta già già letto niente di che allora 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 se agenti box draw questo quanto mi vuole se 250 per la leggenda però ho visto anche sul gioco c'è una bassa probabilità di trovarla però io signori direi che possiamo aprirci questo qui dell'arsenal se io andrei ad aprirmelo dai allora dai speriamo bene speriamo bene qualcuno di buono Inghilterra chi è la casetta Obama Young non dici chi è Torreira 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 ho trovato Lucas Lucas Torreira lui signori è un bel giocatore Lucas Lucas Torreira allora lo mettiamo in formazione allora ho sbagliato gestione squadra allora mettiamo qua salviamo e signori niente direi che intanto riscattiamo il bonus direi che per questo video può essere tutto io vi ringrazio per la visione vi ringrazio ancora per per i 30 iscritti mi raccomando fatemi pubblicità e niente ci vediamo ora